Buongiorno amici panettieri, sono Virginio, siamo qua nel mio regno che amo tanto e sono qui con voi per condividere alcuni segreti e alcune ricette con le farine Valcorn. Bene, ora andiamo a preparare un impasto per le focaccine col Valcorn Soft. Perché le prepariamo col Valcorn Soft? Per dargli una caratteristica di morbidezza maggiore e di durata durante la giornata. Come la prepariamo questa ricetta? Abbiamo sempre il nostro Valcorn Soft, la nostra farina bianca, un po' di grasso vegetale per dargli un pochino di friabilità maggiore, sempre il nostro olio extravergine di oliva, il nostro lievito compresso e il sale e l'acqua. Ora andiamo al secondo step delle focaccine. Prendiamo il nostro impasto che abbiamo fatto riposare una trentina di minuti, lo andiamo a spezzare. Prendiamo una teglia, anche se è antiaderente, andiamo comunque a spennellare l'olio nella parte sotto delle focaccine perché questo ci dà la possibilità di avere una focaccina più croccante. Prendiamo le nostre focaccine e le andiamo a posizionare a questa distanza. 5x3 su una teglia 60x40 con una pallina base di 50 grammi va benissimo. Andiamo a mettere un pochino di olio in superficie. Non ci resta che posizionare la teglia nella cella di lievitazione fino a che la focaccina ha raddoppiato il volume. Dopo che abbiamo fatto riposare le nostre focaccine per una trentina di minuti procediamo con la fase dello schiacciamento finale. Andiamo a mettere un altro po' di olio in superficie. Fatto questo, vedete? Andiamo a schiacciare con i polpastrelli delle dita. Vedete? Un piccolo schiacciamento. A questo punto in superficie possiamo andare a mettere ciò che vogliamo. Qualche pomodorino, un pochino di olive. Possiamo farne qualcuna senza nulla, solamente un pochino di sale grosso in superficie. Una volta terminata la farcitura delle nostre focaccine, le prendiamo e le torniamo a posizionare in cella di lievitazione per 30-40 minuti a 30 gradi 80% di umidità e poi procediamo con l'infordamento. Eccoci qua con un prodotto che è la focaccina. Potremmo dargli anche un altro nome, una tira l'altra, perché questa quando inizi a mangiarla veramente non smetti più. È un prodotto che è leggerissimo, friabilissimo. Guardate come si spezza. Col Varcol Soft abbiamo sempre la possibilità di avere una focaccina molto 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 morbida che si mantiene così fino a sera. Grazie a tutti.